Cosa vuoi tu? Cion lì Cion qui Hai fatto toccarti il naso con questa giacca? Come? Prima hai fatto tutta la scena, scusa Ti piace essere sculacciato? Un consiglio d'amministrazione per fare una foto e poi andiamo al concerto, forse Ah, dissing, vuoi del beef? Eh, Ferragni? Eh? Eh? Amore, ah! Ti devo dire una cosa importante, tua mamma mi picchia E niente, la vedrai su Studio Aperto in questi giorni Ho un giorno in pretura Sì, amore, la mamma ha un giorno in pretura Sì